Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. L'alta pressione ha ormai conquistato quasi tutta l'Europa con i suoi massimi altopressori sull'Europa centrale. Alta pressione che riuscirà a garantire cieli sereni e temperature prettamente primaverili anche sulla nostra penisola. Nel prossimo weekend ci aspettiamo cieli sereni ovunque e aria primaverile, ottima per le prime scampagnate. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 17 marzo. La grafica è eloquente. Entrambe le regioni godranno di cieli prettamente sereni grazie al vasto promontore anticiclonico portatori di bel tempo. Per quanto riguarda le temperature, come possiamo notare dalla grafica, avremo un ulteriore rialzo di 2-3 gradi con valori prossimi a 20 gradi in alcune zone interne del Foggiano. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari da poco mosso il canale d'Otranto a calmo lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questa bellissima alba primaverile da Torre dell'Orso nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!